E' un'istruttura che ci mette in relazione con quanto il mio istruttorio fosse già nella vita, cioè nel giallo del cambiamento, del cambiare, del trasformarsi, dell'essere illuminati, quindi dell'essere non opachi rispetto all'esistenza e questo è stato una grandissima scoperta, è un bellissimo modo di intendere la qualità di un genere, quello della struttura che molti vorrebbero superare e che invece c'è ancora delle delle sue emozioni, però ne è, questo lo sono più grande, grazie. Grazie 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 Dovete prenderle e abbracciarle, sentirle, perché loro rispondono a voi, si attivano solo quando voi vi avvicinate. Hanno il profumo, mettono questi suoni, queste vibrazioni, sembra un massaggio della schiena. Io ti amo, ti amo, il aime, noi amiamo. Io ti amo, 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 io ti amo I love you. Toni, t'aime, tu, il aime, il aime, il aime, il aime, il aime, nous aime, Io ti amo, 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 io ti amo Io ti amo, ti amo,�� amo, ti amo, il amo, du n damit, io sono gli amеди, sta vaticano, allesanti.